amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la pallanuto vista da vicino è davvero un piacere immenso ritrovare in nostra compagnia il giovanissimo attaccante della roma visnova luca provenziani ciao luca bentornato sono davvero contento di riaverti nostro ospite ciao andrea grazie a te per l'opportunità luca iniziamo la nostra chiacchierata da quella che è stata l'ultima uscita ufficiale e magari da una considerazione di carattere un po più generale come avete archiviato la serie vinta in due partite contro la reale mutua torino 81 sfida valevole per le semifinali vittoria per 2 a 0 e poi accesso alla finalissima per la promozione allora sì mercoledì scorso abbiamo giocato a torino contro la torino 81 vincendo diciamo con un ampio margine il risultato però non è veritiero perché può sembrare diciamo essere stata una partita abbastanza semplice ma così non è stato perché i primi due tempi tre tempi sono stati sono stati molto tirati poi diciamo che il risultato si è allargato solo solo verso la fine riportiamo dalla partita di mercoledì sicuramente l'atteggiamento e la preparazione la preparazione fisica l'atteggiamento perché abbiamo approcciato molto bene la partita non ci siamo disuniti e fino alla fine abbiamo continuato a tenere a tenere il ritmo molto alto siamo contenti di aver di aver superato il turno ma adesso stiamo già pensando a gara 1 di sabato e prima di proiettarci poi verso la finalissima e la prima gara quanto è stato importante riuscire a chiudere in due partite è stato sicuramente importante perché chiaramente un turno di riposo ti permette di di prepararti meglio con più tempo correggendo anche i minimi dettagli di quelli che saranno appunto di quella che sarà appunto la partita la partita di sabato cosa vi ha detto mister calcaterra quando vi siete ritrovati poi per la ripresa degli allenamenti ma sicuramente che comunque abbiamo fatto un piccolo passo quindi vincere vincere quella che è stata la semifinale ma che non abbiamo fatto nulla perché queste due o tre partite che ci aspettano decideranno diciamo l'esito l'esito della stagione che è stata una stagione molto buona ma che senza diciamo il coronamento in queste ultime due o tre partite sarà abbastanza come dire normale non è una torta senza la ciliegina potremmo dire esattamente esattamente luca sicuramente lavoro tecnico lavoro tattico lavoro fisico è stato fatto tutto nel corso del tempo e nel migliore dei modi però ti chiedo in vista della serie che vale la promozione in a1 qual è lo step di crescita che secondo te il gruppo deve ancora compiere cioè che cosa deve fare in più rispetto alle partite di semifinale contro la torino ottantuno probabilmente limitare ancora di più diciamo le azioni e le soluzioni che vanno a cercare diciamo le altre squadre durante la maggior parte della della gara quindi evitare di prendere gol banali e diciamo che devono essere gli attaccanti delle altre squadre l'altra squadra a farci gol e non noi a subirlo dobbiamo rispettare diciamo le regole generali che ci siamo dati senza prendere gol in maniera superflua e sabato inizia quello che poi il momento della verità a monte rotondo arriva il bojasco 1951 seconda classificata del girone nord gara 1 di finale che tipo di partita ci dobbiamo aspettare secondo te sarà sicuramente una partita molto intensa sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista dal punto di vista fisico perché è una gara 1 di finale playoff entrambe le squadre vogliono arrivare e vogliono raggiungere la promozione che è quello diciamo per cui lavoriamo dall'inizio dell'anno quindi sarà una partita intensa faticosa ma sicuramente bella da giocare bella da vedere e in questa sfida quali saranno i fattori decisivi per provare a portare a casa la vittoria e poi tra virgolette mettersi in una condizione di vantaggio perché è vero che parliamo di due squadre molto forti ben attrezzate con due roster magari dalla conformazione diversa ma certamente formazioni di assoluto valore l'uno a zero significherebbe davvero tanto quindi dov'è che secondo te si giocherà e si deciderà l'andamento del match la partita si deciderà sicuramente in difesa come ho detto prima dobbiamo limitare le occasioni e rimanere solidi rimanere dietro poi avanti si vedrà però sicuramente se partiamo con una difesa forte e solida e non permettiamo appunto gol gol semplici sicuramente diciamo è la buona strada quella possiamo definire questa serie come una contrapposizione di stili e di caratteristiche ovvero l'entusiasmo della gioventù e l'esperienza di un gruppo che ha giocatori che hanno già affrontato questa categoria ai livelli più alti sicuramente loro hanno molta esperienza noi siamo diciamo alle siamo molto giovani quindi questo sarà un fattore fondamentale nel senso che dobbiamo cercare anche noi nonostante appunto come detto la nostra gioventù di rimanere in partita mai perdere la testa rimanere saldi sia in attacco che in difesa e chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta oltre agli impegni con la prima squadra questo per te per qualcuno dei tuoi compagni un periodo particolarmente denso semifinale under 20 finale di playoff per la promozione semifinali con la formazione under 18 come si gestisce questo turbine di partite raggruppate poi in pochissimi giorni l'ammetto con una battuta magari poi settimana prossima i tre giorni prenotati al mare si gestisce sicuramente dando molta attenzione attenzione al riposo alle fasi di riposo e alle fasi alle fasi di recupero come detto affronteremo ehm prima di tutto le semifinali under 20 poi eh gara 1 di playoff e poi le semifinali under 18 ehm ci concentriamo su tutte e tre eh su tutte e tre queste questi appuntamenti che sono molto importanti e eh come ho detto bisogna stare attenti ai riposi e alle fasi di recupero per affrontarle al meglio. Va bene siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata io ringrazio Luca Provenziani per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Luca grazie mille. Ciao Andrea grazie a te.